Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua, è un sabato di mattina, infatti ragazzi sono ancora addormentato però è uscito il Brawl Talk, sono addormentato perché per chi mi seguisse su Instagram ho pushato Daryl fino a tipo alle 5 di mattina e sono demolito comunque oggi siamo felici perché è uscito anche il Brawl Talk, quindi è uscito questo video che ci farà vedere le novità del prossimo aggiornamento io l'ho già visto ma lo riguardo insieme a voi per farvi, dato che siete usciti da scuola adesso, per prima di tutto tradurvelo e cercare di capire un pochino le novità che usciranno in questo update, probabilmente nella prossima settimana iniziamo quindi con il video, già abbiamo visto da questa prima intro abbastanza cose nuove grazie anche a voi ok iniziamo subito con le novità che vengono introdotte all'inizio del video nuovo ambiente di gioco, quindi se prima c'era la nave pirata adesso viene cambiato con questo ambiente arcade ma lo vedremo poi, un nuovo brawler che anche quello come l'ambiente andremo a vedere dopo quindi non vi voglio spoglierare nulla skin, ragazzi le skin di questo update sono una roba assurda e lo vedrete e tanto altri ne arrivo con questo aggiornamento, vediamo un pochino il tutto ecco, sto parlando dell'ambiente ragazzi, l'arcade quindi l'ambiente sarà un ambiente preso da, preso insomma, dagli ambienti cinesi quindi è stato preso spunto dalle varie ambientazioni giapponesi, cinesi, quindi orientali e viene poi introdotto nel gioco come ho detto l'ambiente viene denominato arcade e viene anche definito come la casa, l'origine e di provenienza di 8 bit eccolo qua ragazzi, il pinguino allora cerchiamo un pochino di capire cosa fa perché sinceramente dal primo, dalla prima volta che ho visto insomma il Brawl Talk non sono bene riuscito a capire cosa facesse vedendolo così, vediamo un pochino cosa fa allora, metto ragazzi velocità lenta 0,5 tolgo il volume perché sono fastidioso allora, tira quel colpo come vedete ha beccato Shelly e poi è salito sopra un ribalzo molto strano stile Jesse forse no, vedete? fa dei movimenti strani salta su, scende e riscende giù boom, boom, boom eh, ragazzi, ok quindi da quel che capiamo questo Brawler ha un hit che fa dei rimbalzi ma sono dei rimbalzi che non seguono l'avversario ma sono dei rimbalzi secondo me fissi non come quelli di Jesse che seguono l'avversario ma invece sono dei rimbalzi fissi uno che va su e uno che torna giù vediamo cosa ci dicono loro del Brawler ecco il suo attacco principale è il lancio di un proiettile che quando colpisce il bersaglio quindi prima di tutto affinché faccia quel rimbalzo si deve colpire l'avversario rimbalza causando un danno d'area quindi si, fa quel rimbalzo fisso solo se becca un avversario e questo rimbalzo è veloce e fa uno scatto sopra e poi riscende giù da quel che ho capito e da quel che ho potuto vedere la sua super secondo me è bellissima spawna un oggetto dalla quale vengono generati i piccoli pinguini che sparano dalla distanza per dire fantastico non la fanno vedere nel Brawl Talk però vedremo un pochino poi questa skin qua ragazzi non ho capito perché non l'abbiano rilasciata in versione gioco ma così in versione disegnata però vabbè probabilmente non ce l'hanno ancora pronta però vedremo Capodanno Lunare come sapete questo Brawl Talk e questo update viene proprio per il Capodanno Lunare quindi verranno di sicuro reintrodotte le skin lunari come Colt Derry Lebrock quello ne sono sicuro perché l'ho visto anche da Twitter in più queste skin che ve lo dico ve lo pronuncio saranno limitate solo per il Capodanno Lunare guardate quant'è bella Saski ragazzi ma quanto cavolo è bella a parte che il nome fa un pochino l'idea perché noi italiani Eroin Bibi lo associamo a qualcosa di negativo però no è davvero bellissimo la spada quella cavolo di spada quant'è bella ragazzi come vedete l'it è stile quella di 8 bit cioè c'ha tutti i bit quando colpisce uno che è bellissimo stupendo Tara pure questa l'avete visto il rubino che lancia guardate boom lì proprio lì l'avete visto bellissimo peccato che il pet non cambi forma anche questa ma ragazzi ma quanto è bella ma è mostruosa è un ragno 8 bit ma è stupendo ma anche i colori ma quanto sono belli ragazzi mi ricordo tipo Ben 10 stupendo San Valentino ci sarà una skin dicono molto speciale che potrebbe uscire quindi non è detto ancora che esca poi ragazzi questo evento è stato fantastico un evento organizzato da una persona che conosco per raccogliere e raccimolare dei fondi da poi mandare in Austria all'inizio era semplicemente un torneo nella quale chi donava e poi insomma le donazioni sarebbero poi comunque andate all'Australia e poi invece è diventato sempre più grande sono riuscito ad arrivare ad un capitale di 3000 euro se non mi sbaglio il che non se lo sarebbe mai aspettato Brawl Stars è riuscito ad arrivare a scoprire questa iniziativa tanto che come vedete ha deciso di fare una skin di Nita che per chiunque verrà acquistata da chiunque verrà acquistata scusate permetterà di donare dei fondi all'Australia per i primi mesi di questa skin guardate cosa spawna un orso vigile bellissimo infine ci saranno altri miglioramenti al cammino dei trofei e semplicemente se lo avete già completato avrete solamente una mega cassa in più niente di più niente di meno bellissimo ragazzi hanno rimosso stella solitaria e caccia al boss due modalità completamente inutili secondo me da rimodellare completamente le hanno finalmente tolte milioni milioni di giocatori solo 21 mila persone hanno superato la sfida delle 15 wins credibile c'è qualcosa di più come vedete ragazzi una nuova modalità che come esiste in moltissimi giochi come COD se non mi sbaglio esisteva anche per un certo periodo anche su Fortnite conquista la zona conquista la zona e dominala lo aggiungeranno finalmente su Brawl come vedete qua ci sono dei cosi strani dei spike delle barriere che non capisco sinceramente a cosa servono però vedremo comunque ovviamente chi starà più nella zona accumulerà più punti per la propria squadra e deduco che chi abbia più punti vincerà la partita ok qua dicono che è un video lungo solita solita cringiata a fine video ragazzi che fanno in tutti i Brawl Talk qua dice aspettavamo che te ne andassi finito quindi ragazzi questo è il Brawl Talk del 2020 nuovo aggiornamento che uscirà probabilmente la prossima settimana speriamo incrociamo le dita la cosa top di questo update a mio parere sono le skin skin fantastiche saranno limitate ve lo ricordo quindi prendetele se non volete aspettare l'anno prossimo skin limitate stupende la modalità non la voglio criticare né giudicare perché vorrei giocarla prima di tutto voglio vedere un pochino come l'hanno sviluppata e come sarà effettivamente sul gioco perché sinceramente cattura la bandiera me lo aspettavo per esempio ma come l'avevano implementato non mi piaceva per nulla non mi piaceva proprio vedremo invece se cattura cioè conquista la zona sarà una modalità che mi piacerà di più io vi ringrazio ragazzi per aver visto questo video terminiamo quindi qui commentate se vi è piaciuto anche a voi iscrivetevi che siamo vicini ai 20.000 iscritti e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti